Nel 2024 c'è l'intenzione di porre la statua di Pitagora nel centro cittadino, con l'acquisizione della stessa, da parte dell'amministrazione comunale, nel luogo dove si terrà più opportuno. E quanto ci hanno detto sia l'amministrazione che l'artista Gaspare da Brescia. Pitagora dunque al centro di una nuova geografia, non solo come statua bronza, ma come paesaggio. La statua verrà trasformata in bronzo il 24 gennaio a Napoli. Il paesaggio comprende sia la creatività che un fatto è un dono, la creatività è un dono, la capacità dell'uomo di creare, di partecipare al creato in modo etico. Altro invece è ciò che esprime la creatività, cioè la cultura. La cultura è intrisa di paesaggio, di umanità, di bellezza, di etica. Sostanzialmente, per essere non filosofo ma chiarire questo aspetto, l'estetica è il cuore, la bellezza dell'anima. L'anima si esprime attraverso l'estetica e si congiunge con l'etica dell'uomo. L'uomo deve seguire la propria etica, l'etica universale e si congiunge con l'estetica. Quindi in mezzo non c'è solamente il Faber, l'uomo, che costruisce, ma ha un senso profondo di armonia con il paesaggio e con il creato. Questa è cultura. Questa stessa di Pitagora appunto guarda il paesaggio, guarda anche il mare. Quando sarà posizionata in piazza Pitagora? Lo chiedo perché i cittadini sono curiosi. Guarda, con il sindaco di Crutone, che poi è l'amministrazione che deciderà dove, come, quando, ormai è chiaro che la volontà del sindaco Voce è quella di porla nel centro della città. Adesso sono sopraggiunte non difficoltà ma confronti con i vari enti che sovrintendono al paesaggio, fra cui la sovrintendenza, ma credo che troveremo insieme a tutti quanti il buon gusto di porla dentro una dimensione accessibile, quindi spero in piazza, ovunque sia il punto poco a importanza, ma certo è determinato il sindaco come sono determinati tutti i cittadini. Di questo ne vado orgoglioso, ma era quello che desideravo e speravo in questi anni, quello di portare un segno e partecipare al cambiamento di questa città. A proposito di cambiamento di questa città, nelle scorse settimane si è aperto il dibattito nel territorio crotonese circa la bonifica dai veleni. Gaspari da Brescia parlava sia di bonifica dal materiale ma anche di una bonifica dell'anima. Sì, la bonifica non è solamente il sito dell'Eni dove è nato tutto quel groviglio di paure, di ansie, di malattie, di interessi. La bonifica appartiene, ritorniamo al discorso di prima, al paesaggio. Quindi nessuna bonifica può essere portata in atto se non si allarga la visione. Oltre il perimetro dell'Eni e della Sasol c'è un perimetro culturale, etico, umano, che va salvaguardato per sempre e che benvenga una reindustrializzazione, che benvenga l'impresa, ma questa volta deve essere un'impresa etica, virtuosa, capace di combinare ciò che sono gli interessi a ciò che sono gli interessi comuni di tutta la città, senza paura. Quindi l'idea del commissario, che per la prima volta, e questo non faccio politica, ma io dico quello che penso, il commissario sta cercando di interleguire con tutti gli astanti di questa visione, comune, provincia, regione e tutti gli altri enti. Ma badate bene, badate bene, che per la prima volta lo Stato è venuto qui. Il signor commissario non è solo Enrico Emilio, commissario straordinario, ma è lo Stato, cioè è il Presidente del Consiglio e tutto lo Stato insieme, che finalmente ha capito che sono stati degli errori e vuole sopraggiungere e definitivamente chiudere questa vicenda disastrosa per Crotone, terribile per tutto il Mediterraneo, dato i veleni che sono presenti. Allora lui dice giustamente attivatevi, attivatevi, perché comunque questa cosa va finita. Quindi tutti devono perdere un po' di prerogativa e lavorare in protocollo con lo Stato centrale, che comunque ha già deciso sia con gli organi regionali, gli organi provinciali e gli organi comunali di fare questa cosa, altrimenti lo Stato che fa? Decide di avvocare a sé il diritto e quindi che si farà comunque, ma io spero che ci sono persone, in primis il sindaco, che coglie questa opportunità e decida per gli interessi di tutti i cittadini di ingaggiare con lo Stato centrale una battaglia anche culturale e anche etica, non solamente di interessi e non solamente di azione scientifica. Le anime, quel sentimento comune a tutti i crotonesi deve perdere la paura che in tutti questi anni avvolge questa città. Quindi quando parlo di anima parlo di questo, quindi quando parlo della Madonna di Capocolonna e del luogo dove ho voluto che nascesse Pitagora, era per centrare culturalmente noi chi siamo e da dove veniamo. Per fortuna la Madonna in questi anni ha conservato quell'enclave che si chiama Capocolonna, ma oggi non basta lei, basta e sovraintende l'amore per questa città. Quindi Maria è così, propone, è avvocata di una causa umana, verso Dio. Quindi speriamo che questo sia la volta buona, che questa avvocatessa che tiene ancora dentro le persone nell'animo umano possa aiutare a comprendere che cos'è il creato e che cos'è la bellezza di tutta l'umanità intera. Grazie. Grazie.